Benvenuti innanzitutto a coach Alessandro Finelli, ai nostri microfoni, anno nuovo, coach nuovo, il primo impatto con Orsi Nuovi. Ma intanto grazie per il benvenuto, il mio primo pensiero è successo tutto molto in fretta, il mio primo pensiero va a coach Crotti, ad Alessandro perché immagino che queste siano situazioni difficili, sono difficili da vivere per tutti. Crotti ha fatto tanto per questo club, è l'allenatore che ha portato la squadra in questa Lega e quindi il primo pensiero va a lui perché in quest'anno e mezzo è stato importante per la società. Io sono arrivato da poche ore, il mio obiettivo adesso è conoscere l'ambiente, conoscere le persone, conoscere i giocatori, cercare di capire come arricchire quello che veniva fatto prima e cercare di mantenere tutte le cose positive che erano state fatte in questi mesi da coach Crotti. Sicuramente avrai una visione completa della Lega 2, un allenatore sempre allenatore anche quando non ha panchina, so che hai un background che non ha bisogno di presentazioni dal punto di vista di panchine e di lavoro, so che però fa parte del tuo curriculum anche una grossa preparazione dal punto di vista psicologico, motivazionale e credo che forse sotto questo aspetto i ragazzi abbiano notevolmente bisogno. Ma questo non lo so, io cerco di fare l'allenatore in maniera completa, è logico che probabilmente in questo momento quando si perdono tante partite può esserci un po' di scoramento, mancanza di fiducia e coesione e quindi è importante rimettere tutti quanti sulla stessa pagina partendo dalle piccole cose, partendo dalla fiducia individuale, da avere chiari i ruoli e le responsabilità e creare un meccanismo che gli dia fiducia e che possa favorire la partita, la performance sul campo. Logico che sia la parte più emotiva che la parte tecnico-tattica, tutte e due le parti vanno portate avanti insieme. Io credo che noi abbiamo pagato anche questo impatto però le statistiche che sono cose che per la pallacanestro non vanno mai dimenticate parlano di un Orzi Nuove che è tra i migliori attacchi e purtroppo sotto l'aspetto difensivo il tredicesimo posto o il quattordicesimo posto che oggi occupiamo è quello anche che deriva dalle canestre subiti. Sì, bisognerà un po' creare equilibrio, c'è da dire che onestamente la sfortuna ha giocato un ruolo importante perché nei momenti in cui lo staff e la società hanno deciso per un'inversione di rotto, un cambio di strategia con l'arrivo di Raff e di Strautins e l'uscita di un giocatore diverso come l'Azwer l'infortunio successivo di Valenti logicamente ha penalizzato tanto e quindi è normale che senza il pivo titolare, giocatore anche importante emotivamente dentro lo spogliatoio la squadra faccia più fatica quindi a volte gli imprevisti, gli infortuni possono penalizzare adesso cercheremo di completare il roster anche se il mercato in Lega 2 riaprirà nel girone di ritorno e non è un mercato semplice perché sono pochi gli italiani disponibili sul mercato Combinazione, tante volte lo scalzo al campionato cambia niente sabato abbiamo un avversario che sotto l'aspetto di nome è importantissimo Treviso evoca una società, evoca altre categorie e combinazione ti troverai di fronte a un allenatore che tu conosci benissimo come Piliastrini Certo, sarà una partita molto importante sarà importante creare un grande ambiente giocando in casa so quanto siano appassionati i tifosi, il popolo di Ordi Nuovi che segue la squadra da tanto c'è una grandissima passione per la palacanestro quindi sarà importante che noi per primi diamo un segnale a livello di energia a livello di voglia di combattere come dei guerrieri e che al tempo stesso ci sia un bel ambiente perché in questo momento probabilmente i ragazzi hanno bisogno di sostegno di supporto per fare tutti quanti un passo in avanti e battere Treviso Il miracolo non fa nessuno, noi possiamo solo che augurate un grande e buon lavoro Grazie Grazie Coach